Ebbene sì, abbiamo un progetto, vabbè la cosa non è che sia una novità assoluta, comunque un progetto ce l'abbiamo. Oggi è domenica 2 agosto 2020, mi sento saltuariamente con un mio grande amico, dico grande amico con la G maiuscola e con la A maiuscola che si chiama Giovanni, Giovanni Marano, il cognome è napoletano ma lui abita a Firenze. Ci sentiamo saltuariamente al telefono quando c'è qualcosa di, qualche avvenimento di una certa rilevanza o qualche articolo scritto che ci ha entusiasmato, eccetera. Una delle ultime volte che ci siamo sentiti con Giovanni abbiamo deciso, abbiamo deciso di creare un gruppo di individui, diciamo un gruppo omogeneo di individui che sono un pochino scettici su questo tipo di sistema che il mondo ha adottato. Abbiamo detto perché non creare un gruppo e cercare secondo le nostre possibilità di comunicare con la gente, non vogliamo insegnare niente, però qualche conoscenza ce l'abbiamo e la possiamo mettere a disposizione naturalmente recependo anche quello che la gente ci può dare, le sue esperienze, le sue valutazioni. Ed è nato così un gruppo che abbiamo chiamato il gruppo disordinati, il gruppo disordinati. Del gruppo fanno parte oltre che tutti gli iscritti al gruppo delle eccellenze, io uso questo termine perché ne sono convinto, delle eccellenze che riescono a comunicare bene, che hanno le idee chiare. Roberto, Domenico, Gianni, Sabrina, Marco, Mario, David e Sandro. Scusate se ho messo il grande Sandro alla fine, però vabbè, questo è l'ereco. Ok, voglio andare a leggervi la descrizione del gruppo di cui stiamo parlando, il gruppo dei disordinati. è scritto a due mani da Giovanni e dal sottoscritto. Passiamo alla descrizione del gruppo. Nel caso qualcuno avvertisse il bisogno di parlare di politica, è bene che sappia che in questo gruppo non ci occupiamo di pornografia. Tale pornografico argomento, qualora dovesse venire preso in considerazione, sarà esclusivamente per trattarne l'aspetto sociologico ed antropologico, senza mai addentrarci nelle perversioni private e personali o percorrere le carriere o le vicissitudini delle sue pornostar e dei suoi pornodivi. L'unica pornografia consentita come dibattimento all'interno di questa pagina e di questo gruppo è quella letteraria, filosofica, spirituale, scientifica, sociologica, artistica, antropologica e visionaria, ovvero tutto ciò che osa oltrepassare le abituali convenzioni sconfinando nell'ardito fuori da ogni luogo comune fino a diventare puro, nobile ed aurico erotismo intellettuale. Saranno dunque detestate tutte quelle discussioni su destre, sinistre, centri, partiti, movimenti eccetera e gradite invece tutte quelle discussioni ox-scene, cioè fuori dalle scene, oltre i limiti e i confini imposti dalla mediocrità, dall'ipocrisia e dal mainstream. Fuori da questi confini. Ciò detto, andiamo a a palesare quali sono i fini di disordinati, ma prima ancora spiegare il termine stesso. Nati dal disordine per creare domande e discussioni su questo sistema planetario che di etico ha ben poco. Non è cosa buona e giusta catalogare individui. Più accettabile è catalogare identificandoli gruppi ed egregore, ma a volte ci caschiamo anche noi e allora non stupitevi se su questo gruppo appaiono termini come omologati, risvegliati, ingabbiati, illuminati, utili idioti e via discorrendo. Fermo e restando le considerazioni iniziali riguardo alla politica, il gruppo vorrebbe stimolare discussioni e ragionamenti sul sistema nel quale viviamo, di modo tale che ciascuno sviluppi le sue convinzioni non già perché accettabili o simpatiche, o perché sarebbero il meno peggio, ma perché frutto di ragionamenti e di studi. Disordinati è un progetto che si sviluppa su tre punti, un gruppo, una pagina ed un sito e internet di prossima realizzazione. Ci stiamo mettendo un po' di tempo per la realizzazione del sito perché vogliamo che sia qualcosa di veramente ben fatto. Evitiamo per ora di palesare la pagina e il gruppo, sono comunque attivi, il gruppo è privato comunque, cioè vengono invitati solo individui di nostra simpatia. Evitiamo per ora di palesare o imposte linee guida come succede altrove, tutto è delegato alla umana decenza per far crescere sotto tutti i punti di vista la qualità del gruppo. C'è chi è nato nel disordine e chi è nato disordinato. E noi siamo nati per creare disordine, caos in quell'ordine dettato dal sistema. Benvenuti a bordo di questa nave pirata in compagnia di questa ciurma di squilibrati. Buona permanenza a tutti. un articolo scritto oggi. Se gli umani volessero, ma non possono. Dicono che gli stati sono nati per favorire i cittadini e invece servono per creare infelicità agli umani, agli animali, alla natura e alle coscienze. Se gli stati volessero, questo pianeta sarebbe la terra della serenità e dell'abbondanza, della ridondanza. Se gli stati volessero, chiuderebbero ogni fabbrica di morte. E conseguentemente sparirebbero guerre e malattie. Se gli stati volessero, sparirebbero le organizzazioni delle Nazioni Unite, con tutti i ciarpami ad esse collegate. Sparirebbe la burocrazia, gli albi professionali, le scuole, gli istituti superiori a non si sa che cosa, i fondi monetari e le monete, le tasse e le imposte. Sparirebbe anche l'infelicità della gente. Se gli stati volessero. Ma non possono. Oggi gli stati sono società private con consigli di amministrazione che chiamano governi. Repubblica o Italy, iscritta alla SEC Security Exchange Commission di Washington. Quindi uno stato privato. Oggi gli stati non hanno poteri autonomi. Non contano un fico seco di niente. Sono il braccio armato di poteri antichi. Sono emanazioni di interessi privati al soldo delle banche di Sion e dei gesuiti. Oggi gli stati potrebbero fare una bella azione in barba ai loro proprietari. Potrebbero estinguersi e riconsegnare il mondo, come è stato sempre, al popolo, ai popoli e alle nazioni. Immaginate la fine di queste finte democrazie. È la gente che si riunisce non per delegare ma per decidere. Immaginate se in un attimo si polverizzassero catene e recinti. Che si estinguesse ogni tipo di potere e di gerarchia. Che si estinguesse il cancro del pianeta, il Sionismo. Più che cancro direi metastasi. Immaginate la fine di migrazioni forzose, di finte pandemie, di antenne assassine, di graffi del cielo, di alluvioni e terremoti indotti, di una scienza che finge di curare ma non guarisce. La fine dell'istruzione è il trionfo della cultura. Immaginate la morte di tutte le ideologie e il risveglio delle coscienze. Un mondo pulito e soprattutto più equo. La gente più sana è il nuovo respiro del pianeta. Immaginate. e intanto ragioniamoci su. Quest'altro articolo, spezzone, è un'immagine più che altro. Il titolo è Solo per chi si è liberato, sempre da Iolaus 77 naturalmente, solo per chi si è liberato una volta per tutte da ogni forma di ideologia. Per chi riesce a capire, trarre le giuste conclusioni e si è liberato una volta per tutte da ogni forma di ideologia. I banchieri americani nel 1892 pubblicarono un manifesto dei banchieri americani. Tra le altre cose scrissero una roba che è valida tuttora, con le ideologie e dividono la gente. Scrissero che dividendo la gente la invogliano a interessarsi di questioni, anche di lotte, per loro di nessuna importanza. ultimo articolo per oggi, variamo un po' il tema perché questo è già più particolare. Ricordate la gentilezza e il calore umano dei bottegai di un tempo ormai dimenticato? Questa vignetta è mia. Questi sarebbero John Joe e Jin Jin, uno americano e l'altro asiatico. John Joe dice, li stiamo impoverendo così tanto che non avranno più occhi per piangere e ci venderanno tutto quello che possiedono per un tozzo di pane. E questa è la strategia dei mondialisti. Nonostante se loro possano fabbricare tutte le monete che vogliono, hanno interesse a che queste monete non circolino in maniera abbondante. Ci deve essere sempre una ristrettezza di circolazione di moneta. E così l'economia non va avanti, la gente soffre. Le oligarchie vi hanno trasformato in schiavi perfetti, ovvini di, ovvini di è un termine che usa Giovanni, ovvini contenti di appartenere alla mandria. Perfetti, così come loro ci vogliono. Così come siete utili all'elite dominanti e schiavizzanti. Ricordate la gentilezza e il calore umano dei bottegai di un tempo ormai dimenticato? Se questo non esiste... I bottegai esistono ancora, però anche loro non hanno più tempo di dedicare a un cliente che prima era considerato un amico, oggi è solo un cliente. Se questo non esiste più è perché qualcuno ha fatto in modo che non deve esistere. Se questo non esiste più è perché la gente analizza gli effetti e mai le cause. Facile maledire una cassiera o una commessa di un centro commerciale per la sua scarsa dose di umanità. Non è l'umanità che manca, è la stima per il proprio lavoro, è la mancanza di tempo anche per dispensare un sorriso o una frase non convenzionale che in effetti non costano niente. Qualcuno oggi pontifica sulla magnificenza del distaccamento sociale. Anche questo è distaccamento sociale per chi ha occhi per vedere. Tolgono il tempo alla gente facendola diventare disumana. Attenzione costante, nessun errore ammesso. Lavorare, produrre, zompare, abbassare gli occhi, l'autostima e la coscienza ed essere utili unicamente all'azienda che concede di poter lavorare come se il lavoro fosse un privilegio. Il sistema dei nuovi schiavi inconsapevoli di esserlo. Il sistema di schiavi vestiti da commesse e vestiti da clienti. Il sistema della globalizzazione selvaggia e dell'ordo liberismo disumano. Il sistema di schiavi perfetti che vedono una commessa o cassiera stressata e non vedono chi e cosa ha portato a tutto ciò. è il sistema che non siamo riusciti a contrastare e la contentezza della gente alla vista dell'apertura di centri commerciali dai prezzi inizialmente bassi e dalla qualità scavente. I prezzi bassi hanno una origine e una fine. La qualità scavente per questi centri commerciali è come Dio, eterna. Quei centri commerciali significano la morte delle botteghine a misura umana e la dimostrazione di quanto noi umani non sottostiamo a nuovi sistemi criminali noi umani che sottostiamo a nuovi sistemi criminali siamo colpevolmente imbecilli. La situazione che ho descritto è in continua evoluzione. forse per loro alle casse metterebbero automi meccanici invece che personale umano. Ok, il video è terminato. Seguiteci. Il gruppo di cui vi ho parlato prima disordinati. disordinatevi anche voi. Ciao.